Bentornati a tutti raga in un nuovissimo episodio della serie... nessuna serie... bella intro Innanzitutto, bentornati a tutti nel canale, oggi direi di portare un video leggermente diverso dal solito che sta rimanendo in realtà da molti mesi, ovvero da prima che succedesse il problema delle bronzine al serie 1 Se vi siete persi la serie di rebuild dell'N47 vi lascio tutto nella i in alto a destra andate a vedervi tutti quanti episodi in cui abbiamo smontato il motore, fatto la distribuzione, cambiato bronzine, rettificato l'albero un paio, un bel po' di lavori costosi Nell'episodio di oggi direi di raccontarvi una vicenda che è successa quest'estate di cui ho portato anche un video 2 sul canale ovvero 5000 km nell'arco di quasi due settimane anzi, qualcosina di più, quasi 6000 km in due settimane 2000 km in due settimane in cui la serie 1 si è praticamente viaggiata quasi tutta l'Europa da sud verso nord perché siamo partiti da Cagliari, Cagliari, Oldia, Oldia, Livorno, Livorno, Austria, siamo passati per l'Austria Austria, Stoccarda, Monaco di Baviera, tutto su finché siamo arrivati praticamente ad Amsterdam siamo rimasti su un paio di giorni, poi abbiamo fatto di nuovo il road trip al contrario se prendiamo Google Maps alla fine quindi stiamo parlando di 2000 e qualcosa km all'andata più 2000 e qualcosa km al ritorno ma dobbiamo considerare il fatto che non abbiamo fatto la strada perfettamente dritta ma abbiamo preso diverse deviazioni, siamo andati anche più verso il nord dell'Oranda est e ovest sempre verso su detto questo torniamo indietro allora prima di partire facciamo un breve recap della situazione in cui siamo partiti BMW 120D E81 del 2008 motorizzazione N47 D20A con una preparazione stage 2 non troppo spinta anzi abbastanza conservativa prima di partire avevamo una preparazione appunto stage 2, turbina maggiorata, downpipe, scarico diretto con silenziatore e con valvola per sicurezza e GR off, swirla off, def up e tutto il contorno per arrivare a un totale di 240 cavalli circa e 500 newton metri sempre a spanne giù di lì prima di partire avevo fatto il tagliando circa 2000 km prima quindi diciamo che il tagliando, l'olio che c'era in circolo per tutto il viaggio era fresco, era pulito siamo partiti da Cagliari dalla mattina prima di partire gli ho fatto tutti quanti i livelli gli ho rabboccato l'acqua del radiatore per sicurezza anche se non ne mancava tantissima tipo forse un dito e rabboccato poi ovviamente l'olio che l'ho messo al massimo olio usato per il viaggio è un Motolix Chess Gen 2 gradanziere 540 specifica BMW LL01 e siamo partiti per il viaggio con il primo pieno da Cagliari siamo partiti da Cagliari, siamo arrivati a Olbia, abbiamo preso il traghetto siamo arrivati fino a Livorno diciamo che l'andatura di tutto il viaggio è stata compresa tra una media di 140 e 150 quando ci siamo trattenuti appunto in Italia andatura che comunque non è malissimo perché ti permette di macinare tantissimi chilometri a una velocità diciamo ragionevole senza andare troppo piano né andare troppo veloce ma comunque era un regime di crociera abbastanza sostenibile il problema che ho riscontrato il problema abbastanza relativo è che il cambio 6 marce manuale del Serie 1 ha le rapportature molto corte del 123 ancora peggio perché in sesta a 140-150 ci attestiamo circa sui 2500-2600 giri che comunque non sono appunto pochissimi perché tiene il muro rimpiccato a 2500-2600 giri per ore e ore ed ore comunque facciamo tutto il viaggio arriviamo fino appunto a Livorno abbiamo fatto il primo pieno rispetto a Cagliari se non erro a Monaco quindi noi siamo arrivati con il primo pieno di benzina da Cagliari fino a Monaco tenendo un'andatura media non nemmeno troppo conservativa perché comunque eravamo in vacanza eravamo tranquilli non avevamo fretta di niente quindi comunque andatura costante sempre 140-150 poi c'erano tratti dove la strada appunto lo permetteva dove abbiamo fatto un po' più monellini diciamola così un po' più monellini soprattutto nel tratto in cui siamo passati dall'Austria alla Germania dove abbiamo fatto il primo pezzo di autobahn se riesco vi faccio passare anche qualche storia che avevo fatto uscire su Instagram in quel periodo perché su di short non avevo fatto in tempo a pubblicarla bello stare a 170 in autobahn in piena legalità sei riverdendo eh? è un pochettino ma che fai due prime? cioè è illegale tutto questo è quello il bello tutto questo è legale ah ah garello con l'Audi facciamo il culo all'Audi via dove ci siamo divertiti dove io mi sono divertito tantissimo perché siamo entrati in autostrada proprio tutta libera cartello con le tre stanghe bianche niente limiti di velocità roba che sono entrato in autobahn ho affondato il piede nel cofano l'ho lasciato lì per tipo poi 40-50 km dove ci siamo fatti un tratto di strada strada bellissima tra l'altro l'asfalto perfetto drenava la macchina non scodava era perfetta a 2.50 circa 2.40-2.50 fissi dove il motore è rimasto comunque sempre impiccato sui 4.200-4.300 giri per tipo un paio di minuti buoni costanti il comportamento della macchina durante questo pezzo di strada è stato ottimo perché comunque non è che mi metto a correre senza guardare Bimmerlink e Bimmer Tool mi tenevo sempre tutto sotto controllo e vi posso dire due cose che mi hanno stupito la temperatura dell'acqua nonostante ci fosse caldo perché eravamo d'estate c'erano siano 35-37 gradi era perfetta 89 gradi di roccia tu affondavi acceleravi correvi era sempre sempre costante la temperatura dell'olio invece mi ha stupito anche quel motivo perché pensavo cazzo fuori c'è caldo stiamo relativamente correndo anche perché in tutto questo c'era anche il clima acceso per non farci mancare nulla dove l'olio però era perfetto di temperatura perché si assestava massimo massimo a 105-106 gradi forse nel tratto dell'autoban dove ho fatto appunto i 250 per un po' di tempo si è assestato in maniera stabile sui 110-111 ma perfetto è un 540 resiste benissimo con le temperature e soprattutto non stava scaldando tanto come faceva l'anno scorso quel 530 che in Sardegna correndo un pochettino senza nemmeno correre troppo vedeva come niente 130-135 gradi di olio differenza ce n'è considerando anche le condizioni in cui stai correndo comunque facciamo tutto questo pezzo di strada arriviamo a Monaco a Monaco poi facciamo effettivamente il primo piano di gasolio fondamentalmente possiamo dire che durante tutto il viaggio abbiamo consumato nemmeno troppo gasolio perché considerando l'andatura che stiamo tenendo ovvero spensierata senza preoccuparsi di devo consumare poco devo andare pieno e tutto quanto una media complessiva di circa 800-900 chilometri con un pieno che non sono proprio pochissimi però su questo aspetto ci torneremo appunto tra poco facciamo tutto il viaggio tutta l'andata prima di partire ovviamente io per sicurezza in maniera preventiva mi sono comprato un chilo di olio me lo sono messo in macchina perché ho pensato probabilmente su in Olanda non lo troverò facilmente il Motul così da un ricambista comune ho comprato un chilo di Motul l'ho lasciato nel cofano ho fatto ci servirà durante il viaggio anzi spero di non usarlo però se serve servirà iniziamo a fare l'andata fino a Monaco perfetto ho controllato il livello dell'olio una volta quando siamo arrivati a Monaco ed era sceso di boh fai mezzo dito neanche forse avrò mangiato 200 grammi in quasi mille chilometri circa ma quasi mille chilometri fatti abbastanza arzilli abbastanza allegri e tutto quanto quindi facciamo quel pezzo di strada arriviamo in Germania ci tratteniamo a Monaco rimaniamo a Monaco facciamo tutti i giri del caso e poi ripartiamo per andare su verso l'Olanda questa volta senza meta quindi c'è senza una tappa intermedia dovevamo partire da Monaco e arrivare fino ad Amsterdam che se non erro sono circa un migliaio di chilometri circa 800 900 chilometri se non erro poi comunque vi farò comparire tutto bene per esattezza questa strada siccome eravamo tutti in Germania l'abbiamo fatta senza nessun tipo di ritegno siamo partiti a fuoco ma anche in altra temperatura partiti da Monaco 190 200 fissi fino a che siamo arrivati ovviamente nei tratti dove era consentito siamo arrivati appunto ad Amsterdam adesso mi prendo un attimo il telefono che mi devo prendere un attimo dei punti perché le cose da raccontare sono tante durante il viaggio questo punto dovevamo fare partendo da Monaco fino ad arrivare appunto in Olanda nei presi bassi ad Amsterdam ma siccome facendo la strada principale c'era una piccola di aviazione interessante di 20 chilometri facendo quella strada passando per il Nürburgring abbiamo optato per andare appunto lì quindi 532 chilometri ce li siamo sparati come nulla in una mattinata partiamo di sera da Monaco di Baviera arriviamo fino al ring e ci fermiamo lì a fare degli scatti che sono usciti appunto fantastici però siamo arrivati tardi il ring era già chiuso e non potevamo più entrare non c'era neanche avvo la idea di vedere gente che girava siamo andati avanti e finché appunto di sera fino alle 3 di mattina siamo arrivati appunto ad Amsterdam la cosa importante è che per arrivare lì comunque l'ultimo trotto di strada l'abbiamo fatto veramente tanto tanto forte perché comunque abbiamo mantenuto una media di 200 210 220 e abbiamo scoperto anche la velocità massima della serie 1 che per chi non lo sapesse purtroppo io pensavo fosse cioè non pensavo è autodimitata a 250 perché la situazione è andata così tu acceleravi correva 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 saliva 180 190 200 210 220 230 240 240 240 240 250 250 cioè saliva velocissima impiccata fino a 240 da 240 a 250 voce come se si stesse sedendo praticamente e con BIM link aperto dentro stavo vedendo effettivamente un po' di cose perché la pressione turbo era bloccata a 2 bar fino a 240 250 arriviamo a 250 quasi fondo scala cioè il fondo scala a 260 il motore è messo a 4800 4700 giri quindi comunque era bello caldo cioè bello tirato volevo dire bello tirato la temperatura dell'olio era perfetta a 110 gradi la temperatura dell'acqua a 89 spaccata come niente perfetta e la pressione turbo arrivata a 240 250 scusate scendeva da 2 bar arrivata a 1 bar e 9 1 bar e 8 1 bar e 7 1 bar e 6 è rimasta costante a 1 bar e 6 a 250 ci sono rimasto bene perché in realtà non avevo mai scoperto quanto era la velocità massima del serie 1 però dico cazzo se è arrivata così velocemente a 250 magari qualcosina in più la può anche fare perché c'erano ancora utili circa 200-300 giri motore che comunque su in sesta marcia su un diesel sono abbastanza tanti diciamo che sono tanti soprattutto in velocità di allungo fatto questo pezzo di strada ci siamo fermati poi in un autogrill diciamo verso quasi arrivati ad Amsterdam quindi c'eravamo fatti praticamente quei 500 km a fuoco in Germania prima di entrare in Olanda ci siamo fermati perché giustamente quando tu corri la serie 1 beve ne vuole giustamente quindi siamo fermati per fare appunto un po' di un po' di gasolio metterle un pochettino di darle un pochettino da bere e prima di partire comunque avendo fatto praticamente ormai quasi 1500 km ci siamo fermati per fare appunto gasolio e ho controllato anche quanto olio mancasse ecco effettivamente dopo aver percorso quei 1500 km e tutto quanto a fuoco velocità abbastanza sostenute l'olio era sciato leggermente ma non ancora tantissimo diciamo che era passato dal massimo a circa metà astina per sicurezza io ho detto vabbè siccome stiamo andando abbastanza sostenuti e tutto quanto magari un altro pochettino di olio dentro dentro glielo butto per sicurezza quella è stata l'ultima volta che ho rabboccato l'olio durante tutto il viaggio considerando che poi ci arriveremo dopo quindi tirando le somme un pochettino di questo viaggio soprattutto perché poi siamo arrivati ad Amsterdam siamo rimasti lì dovevamo tornare poi per il rientro verso appunto Livorno per prendere poi il traghetto per tornare a casa cosa abbiamo fatto durante il rientro ho fatto vabbè siccome era giorno passiamo anche per il ring quindi diciamo che in tutto questo viaggio dove la serie 1 è stata spremuta in tutti i sensi soprattutto in velocità per spostarsi da un punto A un punto B ci siamo anche andati a fare un giro al ring dove ho trovato ovviamente il video che ho realizzato come è andato il giro al ring nella in alta a destra che vi faccio comparire adesso dopo aver fatto il giro al ring che comunque le temperature si sono comportate benissimo l'acqua non ha scaldato l'olio ha scaldato sì ma nemmeno tanto i consumi dell'olio non sono nemmeno arrivati a tempo non sono nemmeno saliti tantissimo tant'è che io il secondo mezzo chilo di olio che avevo nel cofano l'ho rabboccato al rientro verso metà strada forse eravamo arrivati già quasi in Italia dopo aver fatto altri mille chilometri all'andata mille chilometri al ritorno un giro al ring di nuovo a corsa verso rientro e poi è rabboccato mezzo chilo di olio per sicurezza perché comunque l'astina diciamo che era di nuovo tornata di nuovo tornata a metà per quanto riguarda invece i consumi di acqua la serie 1 non ha bevuto nemmeno un litro forse in tutto il viaggio considerando che comunque è stata bella spremuta durante tutto il tempo adesso vi faccio vedere un attimo due cose che avevo tenuto da parte su Instagram ovvero oggi abbiamo scoperto tre cose della serie 1 uno a 180 km orari fissi quindi velocità crociera abbastanza stabile abbiamo consumato la serie 1 fa 780 km con un pieno che comunque non è male perché stiamo considerando che abbiamo un conservatorio di 51 litri come seconda cosa a 200 km orari quindi sempre velocità costante fa 9,5 km al litro ovvero 10,5 litri su 100 km che se lo paragoniamo a un benzina qualsiasi se lo sogno un consumo del genere a 200 km orari però non è per dire ma per dire comunque il diesel i suoi vantaggi ce li ha e non è sempre da denigrare come non tanto divertente perché il diesel è un ottimo compromesso e continua a dire che il diesel è un ottimo compromesso ti permette di divertire consumando poco ed essendo diciamo abbastanza economico nella gestione se lo segui bene e poi il terzo punto che è la serie 1 autolimitata a 250 km orari in tutto questo la serie 1 in tutto questo viaggio quindi quasi percorsi 5.000 km abbiamo consumato praticamente circa 7-8 pieni quindi che sono praticamente 51 litri a pieno fate voi i vostri conti considerando che abbiamo ottenuto una media di consumo reale circa di 17-18 km metri al litro che considerando tutto quanto che c'era caldo clima aceso senza compromessi sempre tenendola così non è non è affatto male senza considerare che poi il rientro per diciamo secondo me dovevamo farlo in notturna tornando da Stoccarda verso Livorno tutta in notturna senza pause cioè senza pause senza trattenersi a dormire da nessuna parte abbiamo tenuto un consumo un pochettino più basso anzi siamo riusciti a toccare il record di consumo della serie 1 perché abbiamo fatto effettivamente con un pieno quindi di 51 litri la bellezza scusate di 1000 km abbiamo fatto benzina partendo da Stoccarda e l'abbiamo rifatta a Olbia cioè siamo riusciti a fare 1000 km con un pieno che se adesso io mi prendo un attimo la calcolatrice perché questa non riesco a farvelo al volo sono 1000 km diviso 51 sono 19,6 km al litro cioè sono quasi 20 km al litro infatti notturna clima acceso cioè cosa vuoi di più dalla vita? niente va va benissimo va benissimo così è stato un viaggio che l'ha messa a dura prova mi ha permesso di conoscerla tanto e conoscerla a fondo in quasi tutti i suoi aspetti per quanto riguarda consumi consumi di olio eventuali consumi di acqua e tutto quanto è un'esperienza che consiglio a tutti di farsi un viaggio in macchina di questo calibro e facendo tutti questi chilometri nell'arco di pochi giorni perché ti permette non solo di vedere tantissimi posti ma soprattutto di conoscere la macchina a pieno nonostante ce l'abbia ormai da tanto tempo perché io ce l'ho ormai da due anni che dire è stata un'esperienza un'esperienza unica la macchina si è comportata benissimo però poi sappiamo tutti cosa è successo del rebuild dell'N47 a questo punto la domanda mi sorge spontanea e penso che sorga spontanea anche a voi che state guardando questo video ovvero ma questo viaggio può aver influito in qualche modo su quello che è successo effettivamente alla serie 1 per quanto riguarda i consumi cioè il consumo sì per quanto riguarda lo smerio che avevo trovato nell'olio in realtà non lo so non lo posso sapere perché a me il motore è stato venduto con 200.000 km ma uno chissà se ce li ha veramente e due se in realtà era un problema già pregresso che è stato ovviamente ignorato e che ho sentissimamente portato avanti io mantenendolo in vita con tantissimi cambi dell'olio perché faccio i cambi dell'olio ogni massimo 10.000 km quindi detto questo il viaggio non lo attribuirei cioè la rottura del serie 1 non lo attribuirei completamente al viaggio perché comunque secondo me per quanto è stato maltrattato durante tutto questo percorso in realtà il consumo non può essere arrivato a quello stato deve essere per forza stato causato da una situazione pregressa nel corso degli anni dicevo un consumo del genere deve essere stato portato avanti nel tempo non può essere stato causato soltanto da questo tipo di viaggio detto questo spero che questo video sia stato interessante sia stato diverso dal solito scusate se non è se non sono stato al 100% ma sto avendo difficoltà in quest'ultimo periodo a fare video tra tempo lavoro 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 e casini personali quindi un attimo un attimo un po' così mi scuso se settimana scorsa non sono riuscito a portarvi il video sul canale domenica alle 14 cercherò di portare la settimana prossima questo video questo video qua se avete curiosità domande scrivetemelo sotto nei commenti cercherò di realizzare un video il prima possibile e niente raga iscrivetevi supportate il canale che oltre il 5 bugia l'oltre l'80% di voi non è iscritto e noi ci vediamo direttamente settimana prossima con un nuovissimo video che devo ancora pensare ma spero possa in qualche modo gradirvi essere di vostro gradimento ciao